Musica Benvenuti! Oggi Sprocco ci invita a conoscere la ragazza dai colori verde e nero. La miss della contrada Strettoia. Sono Martina Garagozzo, ho 17 anni e frequento l'ultimo anno del liceo artistico a Carrara. Martina, mi hanno detto che hai una passione molto particolare. Sì, sono alla batteria in una scuola a massa, è da due anni ormai, ho anche un gruppo e facciamo diverse seratine nei locali e poi studio anche a casa da sola. Però sono anche molto legata alle nostre tradizioni popolari. Sprocco, e tu sei un esempio molto importante della tradizione popolare Pietrasantina? Lo so, e per me la tradizione e la memoria storica sono fondamentali. Sono le nostre verità più profonde, da conservare ed insegnare. Sono l'orgogliosa coscienza di ciò che realmente siamo capaci di realizzare. E adesso, l'aforismo di Martina. Il Carnevale nasce nello sguardo di una maschera, cresce nell'espressione di un volto, vive negli occhi di un bambino. Dunque, a Miss Carnevale Pietrasantino 2014... La Miss della Contrada Strettoia, Martina Garagozzo!